simon andreasen si è messo in testa nella gara uomini ha tirato tutto il primo giro e mezzo gruppo compatto che sembrava veramente la sanremo che abbiamo appena finito di vedere e poi è saltato completamente e lì mi sa che col team manager e col mister ci avranno un po da dire è solo inizio stagione è marzo una stagione ricordiamolo che siamo qua gli internazionali italia series cinque tappe però inizia poi la coppa del mondo da maggio giugno da più avanti stagione finisce a ottobre una stagione lunghissima quindi è pur vero che saltar per aria dopo il giro di lancio non va bene però insomma diamo tempo qualcuno sta provando abbiamo visto un po di cose diverse e secondo me una stagione così lunga non è facilissima da interpretare anche proprio come preparazione come come uscire dall'inverno quindi secondo te è stata una scelta tattica iniziale oppure ho saltato fisicamente perché poi alla fine lì dietro sono stati tutti tranquillissimi no tra nadir colledani luca braidot daniele braidot tutti i guardinghi aspettando che fosse realmente il momento giusto poi per dare il la a quell'azione il concetto è che la pista è tecnica l'abbiamo visto abbiamo visto i passaggi è impegnativa è molto fisica però a girarci su tutto ieri e oggi comunque si è preso un buon flow e soprattutto quelli di testa che facevano un altro sport un'altra andatura senza nulla togliere logicamente le posizioni di rincalzo ma comunque i primi cinque otto andavano decisamente più forte hanno portato avanti una gara diversa dove comunque si sono un po si sono un po studiati che dire sì si sono guardati poi hanno dato una bella accelerata io ho guardato anche un po i tempi sul giro in realtà hanno fatto delle sparate a tratti non hanno mai fatto un giro completamente alla morte poi abbiamo visto anche nadir andare a chiudere quindi una gara particolare qua dagli uomini molto diversa rispetto a quella delle donne sì sì ma allora devo dire che non so se hai visto anche tu marco a me il finale della gara uomini mi ha colpito veramente perché praticamente abbiamo visto luca braidot davanti dietro daniele che stava accorciando quel gap stava rientrando stava rientrando e poi sul rettilineo finale chi sbuca nadir sempre del santa cruz che sostanzialmente a mio parere ha anche un po lasciato la vittoria a luca ma il quesito è questo no non lo sapremo mai facciamo prima sicuramente a che vale di più la vittoria un bel podio di squadra sicuramente è molto difficile da dirlo nel senso che la vittoria ha un peso specifico ma il podio di squadra conta tanto e nella lettura va detto che nadir più che arrivare da dietro ha sempre fatto parte della testa della corsa e quindi ha letto attentamente e interpretato molto bene la sua gara io soffro un fascino particolare della mountain bike che è un ambiente che non conosco benissimo però ascolto tanto cerco di farlo e ho capito che fare gioco di squadra nella mountain bike in particolare poi non è neanche così semplice quindi ammesso poi che esista una chiara strategia volta non è poi semplice svilupparle in gara quindi erano in testa hanno fatto una corsa che gli dà onore ma tanto onore rispetto per daniele che quest'anno sembra essere partito tanto bene ad esempio e quindi è una bella sorpresa e vedremo come va perché la stagione è lunghissima è lunghissima tra l'altro io ho visto questa dinamica no di questi tre ragazzi che poi sono due gemelli e il terzo diciamo che non fa parte anagraficamente della famiglia è adottato sostanzialmente perché cavolo si allenano insieme vanno in vacanza insieme si preparano insieme quindi diciamo che proprio giocavano in casa no è stato proprio un family affair l'ultimo giro per la vittoria e se deve intervenire io non so come frenarlo ma sai perché perché volevo agganciarmi un attimo al suo discorso che era quello legato al gioco di squadra sì c'è stato sì nadir non ha volutamente attaccato quando luca ha provato l'allungo io ho visto tiberi il team manager in mezzo al bosco mi ha detto attaccato eravamo insieme forse e lui ha detto attaccato il grande non il piccolo quando attaccato e nadir aspettato perché nadir ha una condizione pazzesca l'abbiamo già visto le altre gare sta andando tanto forte io l'ho visto durante la gara questo non è il suo percorso comunque ha guidato bene ma sicuramente non è quello che attacca in scesa per staccare gli altri come abbiamo visto fare magari a martina bertha poi ne parleremo però l'ha lasciato un po andare e voglio dire in mezzo giro è andato a chiudere questa è indicativo della forma e ti dico daniele comunque stava spingendo perché daniele ha quasi chiuso su luca quindi da una parte family affair dall'altra se ne sono suonate sono suonate e ti dirò di più alla fine anche uno come daniele che è sempre stato in testa che è stato un po il cuore pulsante della gara insieme agli altri due cavolo la cosa che mi ha colpito è stata che lui aveva paura di nadir con le danni degli scatti di nadir con le danni quindi a un certo punto ha detto io ho voluto allungare lasciando indietro nadir perché avevo paura che lo facesse lui no che scattasse l'uomo più in condizione del momento sicuramente italiano ecco ad oggi che è appunto diciamolo ma il 18 di marzo certo 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 c'è tanta strada ancora da fare e queste speriamo che questi segnali vengano confermati insomma ma la stagione è ancora lunga ma è anche lato under 23 comunque ci sono stati delle cose interessanti da vedere senza trascurare che qualcuno era il primo anno da elite e che non ha per niente mal figurato parlo di simone parlo di filippo e non me ne voglia qualcun altro che sto dimenticando comunque una gara che ha permesso anche a questi giovani di esaltarsi e quindi vedremo perché sarà molto interessante quando i motori si saranno scaldati per bene per tutti chiaramente siamo alla prima tappa di internazionale italia series a sanzione di montagna questo è il processo alla tappa di fianco a me abbiamo marca aurelio fontana non ha bisogno di troppe presentazioni alla destra abbiamo marco cittadini di shimano italia ecco marco forse su questo punto sui giovani è meglio soffermarsi ancora un po perché filippo e simone sono stati veramente veramente forte poi è successo qualcosa alla fine simone ha avuto un po un calo la condizione forse non è ancora al top io sono d'accordo con te che è la prima delle gare che valgono di stagione prima di arrivare alla coppa però secondo te dove possono arrivare questi due mi auguro tutto il bene il meglio possibile per loro come gli appassionali dello sport perché sono la promessa più limpida e vivida che abbiamo per il nostro ciclismo simone ha già dimostrato tanto perché quello appena passato è stato un anno incredibile dove ha portato a casa tutte le maglie che poteva portare a casa rispetto al cross country olimpico ed è una roba enorme e non si chiede mai agli atleti almeno dal punto di vista di un marchio che crede tanto nel movimento e che quindi cerca con la propria attività di sponsor di sostenerlo non si chiede mai in realtà all'atleta di vincere perché si vince insieme nel momento in cui nella misura in cui si interpreta alla grandi valori dello sport la vittoria è conseguenza perché sono tante cose però quando poi arriva anche quella vittoria quella fisica che è somma di vittorie altre beh è la soddisfazione di un bel percorso di lavoro che paga a tutti i livelli e anche Filippo allo stesso modo forse meno luminoso da un punto di vista di vittoria nello scorso anno ma non meno affascinante soprattutto insieme al discorso della multidisciplina sappiamo che Pippo è un crossista e oggi quasi l'interprete di importante campione italiana e finalmente un Fontana torna a vincere il campionato italiano di cross finalmente ce l'abbiamo detto da chi poi ha interpretato la grande questo pezzo di mondo no no grande Pippo grande Pippo Fontana come anche Simone fanno parte di quella gara di testa che è stata corsa perché loro sono stati tanto vicini hanno avuto qualche tempo sul giro da leader quindi avevano comunque il tempo non avevano magari il passo gara così a lungo soffrivano un po di più perché comunque in gara stavano sempre quarto quinto rispetto agli altri e avendo anche qualcosina in meno li vedevi che soffrivano un rilancio soffrivano una frenata soffrivano l'errorino però ci sta sono comunque giovani entrambi sono comunque passano il termine più grandi della loro età io ero più esuberante ero più cercavo lo stile cercavo la sfiammata cercavo un po lo champagne loro sono molto calmi sono molto conservative cioè corrono vanno forte ma sono molto concreti no quindi mi piacciono entrambi proprio perché in realtà hanno fatto un cammino e non sono qui per caso sono qui perché si sono fatti un mazzo tanto perché hanno imparato perché hanno corso con bici scarse e bici competitive hanno corso in squadre piccole in squadre più grandi hanno avuto un processo di trasformazione che li ha portati ad essere tra i più forti comunque in italia e nel mondo nelle loro categorie d'età quindi molto bene ecco così come ripeto anche tanti altri ho visto tanti passaggi belli di un sacco di ragazzi però logicamente noi non possiamo concentrarci su tutti dobbiamo comunque parlare di quello che è stato il cuore come dicevi tu pulsante nella gara ecco e poi stiamo parlando di due ragazze che veramente hanno chiuso quarto e quinto simon avevano detto quarto e quinto filippo fontana ma io devo dire anche filippo è stato uno durante la gara che tecnicamente mi ha veramente gasato in alcuni passaggi ha fatto veramente non dico acrobazie per l'amore del cielo però si è lanciato un po più degli altri è cosa che abbiamo osservato io e marco a bordo pista perché marco ieri ha fatto un po ha fatto un po di giri sulla pista la scaldata la scaldata l'ho gommata la gommata e gli ho detto forse hai fatto delle linee che in gara non si farebbero no sì ieri anche stamattina ho girato un po e adesso sai arrivando un po dal mondo dell'enduro un po di discesa o comunque mi sono evoluto pure io e in effetti mi sono accorto che con la bici giusta gommata giusta su una pista o sono diverso da prima sono diverso probabilmente in su vado un filo più piano però ho un occhio e un modo di andare in bici che mi piace tanto perché mi godo sto godendo tantissimo la bici però è un modo molto aggressivo e molto dritto per dritto no sgappavo tutto eccetera abbiamo tirato fuori delle linee che tra l'altro poi hanno incuriosito tanti piloti dopo che le abbiamo postate e alcune qualcuno le faceva tipo pippo altri invece giravano tanto tondo perché perché logicamente sono tutti bravi tecnicamente sti ragazzi però erano molto più conservative pippo nonostante sia un ragazzo molto serio nonostante sia uno che concreto che vuole arrivare alla fine comunque ha provato a non vi dico su che bici era perché lo licenziano comunque dato questo pippo è stato uno dei pochi che ha fatto buona parte delle linee che ho tirato fuori io ieri super creative perché perché la pista comunque lo permette non sempre abbiamo percorsi così belli e così creativi no dove puoi veramente tirare fuori pippo pippo l'ha fatto e prima e prima parlavamo anche di un altro ragazzetto che sta facendo vedere dei numeri proprio in giro per il mondo tra l'altro è uno da podio under 23 rilei bior americano americano campione americano tra l'altro di cross country che gira un po la marco fontana gli manca solo il baggy gli manca ne commentavamo prima le vicende agonistiche e lo stesso marco ho potuto cogliere confermava questa possibilità di filiazione no quanto meno stilistica si è quello che quello che a me ha colpito quello che secondo me ho trasmesso tanto io alle persone in questi anni il motivo per cui trovi ancora della gente che vuole fare una foto con me o che mi dice io ho iniziato a andare in bici per te che è il complimento più bello che ti possono fare no significa che tu hai trasmesso qualcosa e forse era quello in cui ero veramente bravo si andavo anche veloce ma mica sempre però cercavo sempre di trasmettere col mio modo di andare in bici alle persone questa gioia di pedalare di guidare di usare la bici a con lui è uno di quelli che quando lo vedi passare come marco fontana poteva essere primo o decimo ma t'arrivava quella voglia dicevi voglio anch'io fare quello accende il pubblico accende il pubblico sia per per il gas per lo stile ma proprio secondo me arriva arriva le persone mi fa molto piacere infatti ieri l'ho salutato gli ho detto roccio ci vogliono persone come te perché questo dà allo sport qualcosa in più da anche la personalità no abbiamo visto grandi campioni che fanno primo secondo terzo quarto quinto ci vogliono anche i personaggi con manuel 11 lo diciamo sempre quando c'eravamo noi gli uomini dei baggies quando correvamo con cannondale e eravamo personaggi no adesso c'è più un livello professionale molto molto alto ma magari a livello di personaggi che non esclude necessariamente il carattere che è quello che stai dicendo esatto tra l'altro invece marco prima mi parlava di una cosa che era sottilissima profondissima perché io perché io durante la gara ho visto un sacco di tatticismo forse anche forse anche troppa staticità in alcuni momenti no e cercavo sempre di capire ma perché questo non attacca perché questo non prova a raggiungere colui che ha davanti e marco mi ha detto io ho guardato gli sguardi di questi ragazzi cosa saivano negli occhi tanta determinazione ma anche tanta voglia di capire chi sono e a che punto sono rispetto al progetto no che li anima e quindi sì in qualcuno ho visto l'occhio della tigre in qualcuno ho visto in c'è stato un momento in particolare quello della partenza dove mi trovavo proprio sul nella parte principale del lancio e che li ho visti quasi studiarsi guardarsi fare massa compatta anche troppo è probabilmente ma è la vostra una lettura molto più tecnica ed attenta della mia a me sembrava ecco il gruppo del ciclismo su strada che in quelle circostanze si sta studiando sta cercando di capire come fare la corsa però ecco vedere i volti e vedere la tensione e vedere poi nel corso dello sviluppo della gara quindi dalla lettura che ne consegue come quei volti corrispondevano no un po quello che stava succedendo quindi hai visto gli occhi della tigre in luca braidot non ci posso credere beh in realtà la prima fila di quella partenza ha rispecchiato poi le posizioni iniziali almeno del primo giro no dei primi due dove la corsa si è fatta quindi proprio quei quattro che abbiamo nominato 5 6 perché il team rock rider comunque ha attenuto viva la corsa con corridori che se non hanno raggiunto e chiuso quantomeno hanno mantenuto le loro posizioni tra l'altro ecco a proposito di sguardi ci siamo trovati anche a bordo pista con marco a vedere proprio un po gli atteggiamenti dei dei vari rider e c'era un maxima rot che era particolarmente sofferente non è stato l'unico oggi perché in tanti oggi hanno sofferto mal di schiena e diciamo che era un percorso che veramente era tanto fisico al di là della della potenza che dovevi erogare però c'era da risparmiarsi proprio completamente no sì non abbiamo menzionato una cosa che secondo me è da tenere in considerazione i cambi casacca i cambi casacca cambi anche bici cambi bici e comunque ci sono link diversi tutti usano le full tutti usano i telescopici però per esempio maxim è uno che è passato da un brand a un altro brand in base a lo so nel senso che anch'io sono ho cambiato brand nel corso dell'inverno le bici ed è una cosa bellissima hanno un'anima le bici ti trasmettono e ti dicono qualcosa e anche fisicamente si muovono c'è quella che spinge c'è quella che che devi spingere tu c'è quella che devi hollare di più quella più fisica max non so se è per questo motivo però sicuramente c'è da prendere in considerazione cambia telaio cambia sospensioni cambia gomme però è indubbio che la pista era fisica la pista era tecnica e quindi era anche tanto ripida e soprattutto era tanto lenta siamo abituati a vedere piste con velocità medie più alte quando è così lenta tu ti chiudi tanto carichi tanto la schiena in una posizione che non è proprio quella comune è difficile che tu anche quando vai a fare un training lab non vai a fare una roba così lenta no e quindi dai potrebbe essere potrebbe essere uno delle issue che sia successo sì cioè può essere che magari maxim sia ancora in fase di adattabilità alla bici come dicevate entrambi voi sicuramente una di quelle prime fasi della stagione in cui tutto sommato se riesci ti risparmi forse un pochino no cioè va bene fare punti va bene poter ambire al podio però tutto sommato forse questa è ancora la fase quella di di test personale e dei materiali se fai tanti punti ma arrivi giusto giusto alla colomba poi è dura arrivare fino come diceva ermida arrivare a parigi è lunga che è proprio il il senso del della questione e la stagione è appena cominciata perché siamo ancora belli dentro la metà del mese di marzo quindi già probabilmente a capoliveri che è il secondo appuntamento di questo circuito che è internazionale d'italia sirius e avremo del dei risultati un pelo diversi o la capacità di fare delle considerazioni probabilmente diverse circa la salute e risultati quindi le scelte perché poi l'obiettivo in un anno dove ci sono dei cambiamenti importanti che riguardano anche la coppa del mondo che è un po' eh l'appuntamento importante per i big diciamo di questo circuito e che quindi ecco li metterà in condizione di capire come gestirsi sì voglio menzionare una cosa veloce poi magari andiamo a chiudere il talk sugli uomini velocissima 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 voglio menzionare questa cosa tante volte si dice ed è corretto che la gente punta la coppa del mondo no perché gli obiettivi sono quelli poi c'è l'europeo poi c'è il mondiale quando ci sono i giochi anche i giochi devo dire che ci sono passato ho vinto tante volte gli internazionali sia le gare singole sia la classifica generale anche questo è un bel obiettivo di stagione tante volte si si manda avanti no e io in questo spezzo una lancia di favore sia degli internazionali d'Italia Series sia di chi vince di chi apporta casa al malloppo comunque questo è un circuito importante e se alla fine dell'anno hai vinto gli internazionali d'Italia Series comunque contano quindi è vero c'è chi la prende più con calma la stagione però io voglio fare un applauso a chi ha vinto a chi è arrivato sul podio a chi veramente è andato forte perché comunque contano stiamo parlando di una cosa che non ha un peso specifico ciao e ti ringrazio tantissimo perché con fatica ma tanta soddisfazione cerchiamo di contribuire al successo di internazionali e di accreditarlo proprio nell'olimpo degli appuntamenti che contano e quest'anno questo circuito potrà avvantarsi di tre gare hors category che comunque garantiscono anche ecco la giusta ricompensa per una partecipazione per rimanere sul terreno che hai citato quindi sì ci aspettano grandi cose da questo circuito quindi sono da una parte sono punti come dici te perché ovviamente hors category alla fine è il prestigio di correre una gara che è veramente un scalino sotto alla coppa del mondo con dei punteggi molto alti e poi c'è la questione della maglia portare da adesso chi si è guadagnato la maglia adesso io l'ho cominciato a sentire stamattina con gabriel borre che ha vinto tra gli junior martina aberta spoilerino che ha vinto tra le donne cavolo questi si sono guadagnati la maglia oggi ma difficile che gli venga sottratta così facilmente questi se la vogliono portare a casa per cui è un grande obiettivo quello lì si poi della prossima tappa avremo anche nino schurter per esempio tra gli uomini quindi poi si mixa di più quindi tanta cara al fuoco e la prossima tappa appunto è e all'elba e non vedo l'ora di di esserci di girare di commentare di fare un sacco di cose tra l'altro con nino schurter marco ha fatto una delle volate più belle della storia di internazionale d'italia me lo ricordo perché c'ero ed è stato emozionantissimo marco io ti favo per te ma è andata come è andata second best second best cioè fare secondo dietro nino veramente di tanto così di un copertone ma un altro aspetto interessantissimo è venuto fuori dalla dalla gara donne no anche lì bellissimo parterre secondo me un'azione che è partita dal primo giro e è arrivata a compimento con il taglio del traguardo di martina bertha io un po me l'aspettavo però non so se voi la pensate come me se vi aspettavate qualcos'altro anche perché c'erano nomi importanti c'erano già da specia sophie pedersen monami terwalner però nessuna di loro chiarate occhi nessuna di loro è riuscita a prendere martina dal primo all'ultimo metro io io me l'aspettavo ma ho visto martina con gli occhi giusti non ha avuto paura di partire gommata bella slick rispetto a mona che per esempio avevano come un po più cattivella l'anteriore tecnicamente martina è una spanna sopra quasi tutte qui ma anche in coppa comunque martina la metto tra le tre migliori al mondo a guidare la bicicletta e adesso è già bella asciutta è già bella in forma è già bella confident convinta ha fatto una gara dall'inizio alla fine attaccando ma quello che mi ha impressionato di più non è tanto il fatto che dall'inizio alla fine abbia dominato la gestita la gestita e mona comunque è partita non bene magari poi facciamo un piccolo un piccolo talk sulle partenze di mona che piano piano stanno stanno migliorando ma non sono ancora al top anche perché si avevamo un bel parterre ma non è la coppa se parte così in coppa è trentacinquesima dopo il giro di lancio e poi fai fatica però anche quando mona ha fatto un passettino perché comunque è venito è venuto su da dietro ha preso la seconda posizione ha tirato martina era già andata però la tenuta lì alla fine credo che abbia chiuso con quasi cinquanta secondi di vantaggio su su mona mitterwalner anch'io mi aspettavo onestamente una un approccio diverso perché è vero mona risale sempre nella seconda parte di gara recupera tanto però secondo te era era una scelta tattica quella di oggi e di nuovo molto difficile dirlo però la tua domanda no io non me lo aspettavo perché è difficile far caira di testa e gestirsi no e mantenere di sicuro però è stato un segnale come ha detto marco martina in forma e si è presentata già con una dichiarazione di intenti perché ha tutto il valore di dichiarare apertamente le sue le sue ambizioni legittime perché è una ragazza che si impegna tantissimo e sta meritatamente raccogliendo quindi marco ha detto bene perché da da pilota conosce questo mondo martina guida bene non ha timore di allenarsi con i ragazzi e di copiare le stesse linee e questo quando combacia con la forma fisica con la lucidità e con una testa che fa sì che tutto si incastri bene e poi evidentemente porta al risultato per me martina ha fatto definitivamente uno step adesso le altre devono inseguire e non è facile inseguire in due settimane un mese due mesi martina adesso ha fatto un bello step e le altre vanno forte perché già dava forte chiara l'anno scorso ad esempio fatto ha fatto podio al mondiale gravel per parlare della multidisciplina cioè stiamo parlando delle ragazze che vanno tutte forte mona non ha vinto una prova di coppa l'anno scorso perché non è mai partita giusta esatto però martina secondo me ha fatto uno step quello che mi ha detto mona dopo il traguardo sembrava quasi una giustificazione no della della sua performance che forse non si aspettava neanche lei perché comunque è vero mi ha detto non sono ancora al cento per cento forse sono partita un po troppo indietro martina ha preso quel vantaggio per andarsene chissà cosa sarebbe successo se io fossi stata lì dietro è una ragazza molto onesta questo si è molto attenta ed è lucida e anche molto giovane tra l'altro e quindi in potenza cristallina no speriamo che mantenga diciamo questa questa promessa che è lucida è evidente le va dato anche il tempo come diceva marco di migliorare bene che sia consapevole di quali che sono oggi evidentemente i punti di debolezza rispetto alle colleghe però è determinata ed è evidentemente anche molto lucida nel riconoscere a martina evidentemente questa superiorità e fa bene a domandarsi che cosa sarebbe successo perché è lo stimolo che le permetterà di giocarsela meglio domani come riaggancia il pedale insomma sì poi abbiamo visto anche nei giorni scorsi quanto sia analitica minuziosa la ragazza austriaca ricordiamoci che nello stesso anno ha vinto un mondiale marathon nel mondiale cross country quindi sicuramente ha già dimostrato tanto dovrà ancora migliorare forse forse proprio tatticamente dovrà fare uno step ulteriore la gara però a parte le prime due che hanno fatto una è stata una performance incredibile dietro si è formato un gruppetto che ha deciso alla fine la terza posizione del podio solo alla penultima curva dall'arrivo io a metà gara quando ho visto che il gruppo lì ho detto non voglio stare in quel gruppo perché sono ragazze ma non vuol dire assolutamente niente sono molto agguerrite sono toste si sono già menati in passato e si meneranno in futuro io ho fatto una lunga carriera quindi mi sono menato tante volte con i miei amici e oggi vado ad avere una birra con con tutti quindi ti posso dire le cose che succedono in gara succedono quando ci sono quelle situazioni lì uno come me l'annusa da lontano quello che che poi sarebbe successo te lo lascio raccontare ma si vedeva da mezz'ora prima è successo che se le sondate di santa ragione come hai detto tu dietro c'è stato questo gruppetto di quattro cinque cinque ragazze con chiara teocchi georgia marchette già da specia esatto sophie pedersen cavolo c'era anche sarà sarà corti novi che però è stata la prima poi a a tagliare corto perché ha detto io di qua mi voglio levare e ha cercato di allungare poi è stata forse ripresa sì 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 il noccio sono un po si sono un po rigirate sicuramente le più esperte come la chiara hanno fatto tanto gara di testa nel gruppetto no entrava davanti nelle discese cioè comunque è bella tagliata la chiara è uscito il mestiere però però ci sta perché qui la pista comunque è stretta e è uscito il mestiere anche la gamba perché comunque abbiamo visto una forma fisica impeccabile la chiara andava veramente veramente forte la giorgia e è venuta su anche lei piano piano insomma è stata bella la sfida è stata bella è stata bella e si è appunto conclusa con questa con questa ultima tornata che era veramente da da cardiopalmo perché sono alternate giorgia chiara giorgia chiara poi hanno spento tutte e due il cervello e sbucata giorgia sul giorgia sul rettilineo finale quello che è successo dietro le quinte lo abbiamo un po capito sono state sportellate che fossero che fossero giuste meno giuste alla fine è agonismo è gara e bello che sia interpretato in questo modo da tutti i piloti sì sicuramente adesso non l'abbiamo vista quindi è difficile giocare senza vedere però ti faccio un esempio io sono testimone ti faccio un paio di eventi che sono che mi sono successi vermiglio internazionale d'italia di qualche anno fa un anno nel 2008 l'anno che poi c'era il mondiale la settimana dopo a in val di sole arrivo tiro la staccata all'ultimo metro dell'ultima curva giuliano absalon che era in maglia di campione del mondo lo infilo vinco la gara no l'anno dopo e pulito senza neanche stessa situazione il campione del mondo era lo svizzero aiutatemi sauser lui in maglia di campione del mondo gli faccio la stessa staccata nella stessa curva ultima come dei trazionari mi chiude mi sbatte sul paletto mi sbriciola lui vinci arrivo secondo e non è che sono andato l'aluminato logicamente non sei contento ed è normale questa cosa però se uno tiene le mani sul manubrio e penso che sia andata così voglio dire sono fatti di corsa mi sono sportellato con gioiele bertolini che oggi era in corsa mi sono sportellato con mille persone fatti di corsa per me no no esatto poi abbiamo anche analizzato un po il percorso il percorso alla fine offriva veramente tanto al di là delle sportellate perché poi ora stiamo anche forse estremizzando no però c'erano tante doppie linee c'erano tante possibilità di approcciare curve in maniera completamente diversa quindi ci sta che qualcosa alla schurter flukiger del mondiale in val di sole possa succedere no sì perché era stretto nel senso non era una pista larga però tante volte siamo stati abituati a vedere piste più larghe ma completamente monolinea dove comunque sì l'occhio ti dava otto metri ma poi passavi lì c'era un single track qui era stretto perché magari era sei metri di pista quattro metri di pista cinque metri di pista però comunque era tutto naturale quindi c'era tanta possibilità di interpretare che è una cosa assolutamente non scontata non banale nelle piste di oggi molto diversa come cosa e soprattutto attenta come considerazione perché in effetti la pista seppure a prima vista sembrava stretta però aveva tante possibilità di essere interpretata probabilmente non tutte veloci ma soprattutto in un contesto di gara la possibilità avendo energie per farlo di avere sempre la soluzione e questo stimolando probabilmente ecco quel contatto fisico che nei limiti comunque ecco della gara e quello che succede in gara rimane in gara però aggiunge pepe aggiunge ecco agonismo a un mondo che per definizione vive di questo ah si parte bar to bar vedi solo la partenza poi ti tengo a dire non è che noi vogliamo vedere esatto attenzione sono sportellate che sono capitate non vogliamo vedere tutti i weekend menarsi la gente e quindi non siamo qui a incentivare le sportellate tipo fossa dei leoni esatto però diciamo che un po' in comune lo dico parlando da tutti e tre ci può stare sì anche perché diciamo che si trattava di un podio cioè quindi la posizione la posizione che ti giochi alla fine da una parte la vuoi difendere dall'altra la vuoi guadagnare la vuoi conquistare e quindi sono tutti consci di quello che è il gioco di quello che è la gara per cui è stato bello perché è stato alla fine imprevedibile sono un po' dispiaciuto invece per quello che è successo a due ragazze che sono arrivate dietro del Villier Pirelli Giada Spezia e Sophie Pedersen Sophie Pedersen è partita tra l'altro fortissima ha concluso il primo giro nelle prime tre quattro posizioni Giada comunque è sempre stata nel gruppetto che si giocava la gara qui l'anno scorso ci ha vinto però entrambe alla fine sembrava che siano andate un po' calando calando e Giada per ultimo ha appunto dichiarato che fosse una giornata no proprio fisicamente ci possono stare però nel senso fanno parte della gara e quindi dell'esperienza legata alla gara che sia ecco formativa e quindi non distruttiva e quindi dannosa per la psico perché sono persone e quindi la testa deve sostenerle ed è un aspetto importante della loro vita da atleti e della vita come ragazzi e ragazze quindi i giornali non ci stanno purtroppo le aspettative sono sempre brava è proprio quella la questione le aspettative sono sempre una questione un po' complicata no nel bene e nel male spesso più male sì esatto forse perché comunque ognuno di noi fa un po' diciamo fa tesoro di quello che ha visto nelle settimane precedenti i risultati delle scorse settimane delle altre gare e dice cavolo me la allora dovrebbe comunque arrivare arrivare lì e invece invece no non è così tutto matematico no io ho avuto qualche sneaky diciamo ho parlato col team manager con le persone dietro le quinte e quindi si aspettavano un po' senza dichiararlo ai giornali che Giada non fosse nella sua condizione migliore Giada che ci ha fatto vedere l'anno scorso cose pazze cioè è andata veramente forte ecco lei è un'altra che l'anno scorso ha fatto veramente uno step no e ragazza fortissima in gamba molto determinata anche lei diciamo che tutta la squadra italiana è su quel livello di concentrazione di standard di serietà no e quindi sì diciamo che un po' un po' se l'aspettavano è andata un po' così e la prima di stagione avrà modo di recuperare certo che come dicevamo prima le aspettative alla fine sono stato un pilota e quindi torno un po' su questa cosa qua tu sei il primo che vuoi no quindi sarà lei la prima delusa la squadra sarà lì a coccolarla guarda cambiamo gomme facciamo questo miglioriamo questo tranquilla non c'è problema tu sei la prima che stasera andrai a letto e dirai cavolo io l'anno scorso qua ho vinto e oggi ho fatto e questo è il duro lavoro e il duro compito da atleta che nessuno ne parla ma vi assicuro che la difficoltà più grande è le aspettative e quanta pressione tu ti metti su di te perché siamo abituati a dire lo sponsor il team manager il ma tu sei il primo che ti metti la pressione addosso si vero vero e infatti anche su Mona Mitchell Warner devo dire che dopo la gara quando ha finito tutto era lì con Mani con Fumic e erano già a lei è molto a me è sempre sembrata una ragazza molto emotiva molto attenta anche a questi dettagli e era già lì a capire come perché quando e cosa ho sbagliato per tornare il prossimo anno qui e fare meglio lucidità ma anche determinazione presenza a se stessi quindi voglia di capire e di farsi aiutare in questo percorso quindi di sicuro nella fattispecie Mona è la giovanità e anche la fortuna di avere a fianco persone che hanno vissuto al massimo questa esperienza e che quindi ne possono fare tesoro e trasferire poi sarà il sano confronto con se stessa e con il mondo che ci dirà di che pasta è fatta lei e tutti le ragazze come lei che non hanno magari oggi vissuto la migliore giornata della loro vita ma che ne avranno diverse domani decisamente io ti faccio Marco un'ultima domanda perché prima accennavamo a questi risvolti un po' stile ciclocross stile stradistico così come ti saresti aspettato le gare nella tua testa i risvolti di gara nella tua testa? così come sono andate oggi o per esempio un Matthew van der Poel che prende e fa 8 km di fuga vincendo la Sanremo? oddio ma la lettura della gara a posteriori è sempre strana perché incrocia il desiderio e le fantasie più che un'analisi ragionata di quello che è io mi godo la gara e cerco di farlo il più possibile ogni volta per quello che è e per come si dipana cercando di capire e quindi di andare oltre quello che è ovvio e l'evidente e per fortuna questo è un mondo anche familiare dove ogni corridore, ogni atleta partecipa a questo circo meraviglioso ed è disponibile, magari qualcuno più, qualcuno meno però non ci manca quel comporto di una parola, di una dichiarazione sempre sincera, onesta che poi ci permette di capire cosa stiamo guardando, commentando è molto bello perché è tanto tanto diverso dal ciclismo su strada dove ci si copre di più spesso con le dichiarazioni, con gli atteggiamenti vero, vero, vero pensate che siamo solo alla prima tappa di Internazionale d'Italia Series 2023 questo era il primo processo alla tappa hanno già consegnato le maglie, quindi ci sono dei rider felici, ci sono dei rider meno felici io mi immagino già cosa potrà succedere nelle prossime tappe perché c'è ancora veramente, veramente tanto, Marco sì, sì, c'è tanto, ci sono piste completamente diverse terreni completamente diversi la stagione che muta, che cambia, quindi ripeto io mi sono veramente divertito in questi due giorni ci dovranno ancora correre sugli amatori ma io che non dovevo correre, dovevo solo girare con la mia bici sulla pista ho veramente goduto di uno strumento, di uno sport, di una poesia che succede quando vai e c'hai quella velocità lì che faccio fatica a trasmetterla, però ho goduto come un pazzo quindi non vedo l'ora di andare all'elba, a godermi la seconda tappa le gare so che siamo al processo e quindi si parla di competizione però io per adesso ho il gusto della terra sto già pensando io che giro in pista mi dispiace, mi dispiace però io prima penso a quello e poi arrivo le gare saremo dispiaciuti anche noi perché Marco siamo sicuri che ci farà vedere delle linee che saranno impossibili per i comuni mortali o quantomeno per chi poi dovrà affrontare sette giri, otto giri a ritmi corsennati esatto, fuori soglia e dovrà stare attento veramente al millimetro su come risparmiare per arrivare in fondo io direi che Sant'Eno di Montagna è stata promossa a pieni voti l'abbiamo portata a casa bella, bellissima ora ci aspettano tutte le altre tappe noi vi salutiamo da Sant'Eno di Montagna a tutti gli utenti di Pianeta Mountain Bike buone pedalate a tutti ciao